Oggi pomeriggio sono venute a trovarci una mamma e una figlia per raccontarci la storia della loro famiglia. Una storia che ci parla di dono, che ci parla d'amore e che ci parla della loro vita insieme. Buon pomeriggio ad Esther e buon pomeriggio a Letizia. Grazie di essere qui e benvenute. Allora, proviamo a raccontarla dall'inizio questa storia. Questa storia che è in qualche modo la storia della vostra famiglia è la storia di Letizia che oggi ha 23 anni, lavora come assistente delle maestre nell'asilo che frequentava da piccola ed è una bravissima fotografa. Pensate che i suoi lavori sono già stati esposti in una mostra, però arriviamoci per gradi. Partiamo dal giorno della tua nascita, Letizia, se sei d'accordo. E lo chiediamo alla mamma. Tu Esther eri già mamma di due bambine quando è arrivata Letizia. Sì, Martina aveva sei anni e Giovanna ne aveva tre. Durante la gravidanza non ho sospettato nulla, ma anche se avessi sospettato non sarebbe stato. Alla nascita non l'ho scoperto subito. Pensavo che non fosse una bimba bella. Non è tanto bella questa bimba, però non mi sono accorta di niente. Fino a quando i medici non mi mandavano a casa, non si decidevano a mandarmi via a casa. Io premevo perché avevo le altre due che mi aspettavano sei e tre anni e volevo andarmene. E quindi all'ennesima richiesta, all'ennesima volta in cui ho richiesto perché non mi mandate a casa una febbre, una scusa, un'altra, il primario ha detto ma dobbiamo aspettare i risultati della mappa. Questa parola, in mezzo a tutte quelle che avevo sentito, era l'unica di cui non capivo, era la più strana. Poi ho visto arrivare mio marito con gli occhi di pianto. Dico mai che non so quanto tempo si è passato dal momento in cui il medico mi ha detto questa parola e il momento in cui è arrivato mio marito. Veramente non so quanto tempo si è passato. Però l'ho visto con gli occhi rossi e ho capito subito. Allora ho detto è una bimba down. E lui mi ha detto sì. Siccome lui piangeva allora io dovevo fare la forte. Se fosse successo il contrario avrei pianto. E è bastato questo sguardo fra noi due per dirci è nostra figlia, si tiene, basta. Non c'è nessuna cosa da dire, non c'è nient'altro da dire. Credo che venga spontaneo in quel momento aggrapparsi ai legami forti, a quello con il marito, ma anche a quello con gli amici, con le persone che possono condividere un percorso da iniziare insieme. Sì, e venne a trovarmi questa amica che in quel momento era la rettrice di una scuola, di una scuola paritaria, quella dove lavora Letizia. mi venne a trovare io guardando lei, che era stata per me una persona significativa sempre, da sempre, e guardando lei ho come riversato su di lei, ho come fatto una sintesi di tutte le domande che mi passavano per la testa, chiedendole, ma quando io non ci sarò più, Letizia dove andrà? Che è, per una mamma, penso, la domanda ultima. Certo. E lei mi ha risposto con questa risposta illuminante, che è stato il primo palo a cui mi sono aggrappata, perché la mia vita è fatta di pali a cui mi sono aggrappata, e questo palo è fermo ancora nel mio cuore, perché dice, mi ha detto, ancora mi commuovo un po', però mi ha detto, non pensare a queste cose, butta via questi pensieri e vivi il presente, vivi l'istante, che era di più che fare una cosa alla volta, fare una cosa alla volta è riduttivo. Vivere l'istante significa dare un significato a tutto quello che succede. Una cosa, una, una e una. Allora io ho capito, ho capito all'istante che dovevo raccogliere la carrozzina, coprirla se era freddo, aprire la portiera della macchina. Ogni gesto che facevo col suo significato, ed è stata un'apertura totale. Tra l'altro alcuni gesti erano nuovi, perché comunque bisognava iniziare anche un percorso nuovo. Eh sì. Un percorso in cui in qualche modo vanno educati più i genitori che i figli. Sicuramente sì, sicuramente sì. E questa è stata l'altra grande, l'altra grande novità. Se al posto mio ci fosse un medico, forse lo spiegherebbe meglio. Io lo spiego come mamma. Quando nasce un bimbo come Letizia, si tende a fare i paragoni, o con le sorelle, o con gli amici, gli amichetti, i paragoni. E invece la dottoressa che ho incontrato, che ho seguito per un paio d'anni, abbiamo seguito io e mio marito, ci ha proprio insegnato che è una persona. E quello che quella persona in quel momento mi può dare, non è... Cioè, altri, in altri momenti, non me lo possono dare. Me lo può dare solo lei. Allora, guardarla così, per quello che mi può dare, e mi darà, è sicuro che mi darà, è stato un altro palo a cui mi sono aggrappata. Tant'è vero che... Faccio un esempio. Sì. Allora, lei sa fare, sapeva fare da piccola, le bolle di sapone, quando lavava i denti, faceva... Si lavava i denti, poi le venivano spontaneamente queste bolle di sapone. Noi ci provavamo, non ci venivano. Era una cosa che sapeva fare solo lei. Quindi, è vero che è così. Allora, se tu guardi tua figlia così, è una storia infinita, non finisce più, fino alle foto. Adesso ci arriviamo alle foto. Letizia va normalmente a scuola, ha tanti amici, e diventa anche un po' un punto di riferimento per i suoi amici, qualcuno da cui imparare, e attorno alla quale fare gruppo, aggregarsi. Posso dirle questo? Ecco, un'altra cosa che ho capito da un altro incontro, è quello con Don Giussani, ho capito che io l'equazione non la posso fare. Io come mamma di una bimba down, di una ragazza down, non posso mai fare l'equazione. Siccome è down, allora tu nonna, tu mamma, tu zia, tu maestra, professoressa, televisione, mi devi dare questo, mi devi dare questo spazio, mi devi dare... Questa è un'equazione che ti taglia le gambe. E Don Giussani, quando lo incontrai la prima volta, dico questo, che l'ho capito da quello che mi ha detto, perché mi disse, le testuali parole furono, io sono arrivata e ho detto, ho una bimba down di sei mesi, e lui mi disse, sono bambini capaci di chiedere amore, amatela più degli altri figli, ma poi si riuscì a sorrisi e ha detto, non è possibile, amatela come gli altri figli, e consideratela un vero privilegio. Io ho capito di essere in quel momento la mamma più importante, più fortunata, più serena, più felice del mondo, ed è stato l'altro palo che mi ha mandato avanti, fino al rapporto con gli amici che mi chiedeva, perché con gli amici, con le maestre, con la realtà, questa apertura, questa non pretesa, questa capacità unica che hanno di chiedere amore, è valida per tutti, non solo per lei nei miei confronti, ma per lei nei confronti dei compagni, della maestra, sono ragazzi capaci di chiedere amore, ed è un dono infinito, bellissimo, enorme. A scuola però poi Letizia ci è tornata, ci è tornata a lavorare, vero? Sì. Che lavoro fai? Io faccio la maestra bambini, due anni, in nido, aiuto il maestre, se sento la maestra, e aiuto, farisco mani, mi interposto giochi, farisco... Ma ti piacciono i bambini? Sì, molto. Senti un po', ma la tua classe com'è? Cioè, sono buoni questi bambini o un po'? Sono buoni, però... Un po' arrabbiare. Sì. Eh, ogni tanto ti fanno arrabbiare? Sì. Eh, vabbè, è normale. Ma ce n'è qualcuno che è un po' più, fa un po' più di capricci degli altri? Cioè, sì. Sì, ci sono, ci sono. Perché ti fa un po' più arrabbiare degli altri. Si siedono male. Si siedono male? Eh, stanno su seggiorone. Ah, stanno su seggiorone. Stanno su seggiorone magari un po' scomposti. Sì. Ho capito. Ma com'è andata questo percorso che l'ha portata poi a lavorare a scuola? Ma, finite le medie, le uniche scuole che ci proponevano erano la scuola d'arte e la scuola alberghiero di Pesaro, che sono due scuole buonissime per carità. Però io non le vedevo adatte a Letizia, un po' perché mi spaventava, francamente, l'idea di vedere questi ventenni, diciannovenni insieme ad una ragazzina che entrava per la prima volta, chissà con quale insegnante di sostegno, chissà, chissà, chissà. e ho pensato lei è in grado di fare tante cose perché a casa ne fai tante. Se è possibile cerchiamo un lavoro, se non lo trovo sceglierò l'una o l'altra scuola. Ecco, mi sono data questa possibilità in più perché anche parcheggiarli cinque anni di superiori nel mio caso non l'ho trovato utile. La scelta giusta. Ecco, la scelta giusta non mi sembrava. Però se fossi stata costretta avrei seguito anche quella, mi sarei data da fare. però ho cominciato a cercare, a cercare, a cercare, finché non volevo approfittare né della scuola paritaria dove lei, che lei aveva frequentato, perché non era giusto, no? Ecco, quell'equazione non è giusta. Siccome è venuta qui, allora me la... Allora deve lavorare qui. Ecco, deve lavorare qui. Non è un'equazione giusta e non porta a niente. Allora ho cominciato a cercare, a guardarmi in giro, altre cooperative, altre cose. Finché appunto la responsabile della scuola mi ha chiamato, dicendomi, se vuoi ti possiamo aiutare, però i costi effettivamente una scuola come la nostra non li può sostenere, no? E in questo anche il comune ci ha dato una mano perché esistono queste borse lavoro dopo due anni di tirocinio danno la borsa lavoro e quindi la borsa lavoro è erogata dal comune a Letizia e Letizia fa le sue ore di lavoro a scuola. Arriviamo anche alla tua passione, Letizia. Che cos'è la cosa che ti piace di più fare? Foto. Foto. Però che piace molto perché sono un merito in posto perché... Come hai iniziato forse? Ma tu come hai iniziato a fare le foto? Ma sì, io ho mia sorella. Quanti anni avevi? Avevo dieci anni. Ma poi è vero che hai chiesto a papà di comprarti una macchinetta fotografica di quelle professionali serie? Sì, i grossi, il Canon. A Canon? Sì. Che fa delle foto? La signora, il mio bambino, lui. E cos'è la cosa che ti piace fotografare di più? Oggetti, oggetti, o viaggi, o anche... Le persone. Le persone, i matrimoni. Anche i matrimoni? Sì. Ma ai matrimoni è più bello fotografare la sposa o lo sposo? Due due. Tutte e due, insieme? Insieme. Ci sono amici nostri che hanno chiesto servizi a fotografare? Sì, sì. Sono venute bene le foto? Sì, certo. Senti, ma la foto che hai fatto che ti piace di più di tutte, qual è? Creta. Le foto che hai fatto a Creta? Sì. Ma è vero che le sue foto sono state anche esposte da poco, vero? Sì. C'è stata una mostra? C'è stata una mostra, anche questo è un avvenimento perché non l'abbiamo previsto. Un amico nostro, osservando una foto che lei aveva fatto a lui e a sua moglie, se la guardava, sta foto e diceva, io non ho una foto più bella di questa e quindi piano piano ci ha proposto e ha detto ma perché non facciamo una mostra a Pesaro? Ci siamo dati da fare tutti insieme e è venuta fuori questa cosa stupenda, bellissima, a cui hanno partecipato tante persone, si vede una foto dove lei firma il catalogo e abbiamo fatto questo catalogo e il risultato è stato per la nostra città eccellente. Certo, ma è vero Letizia che hai firmato tanti cataloghi che alla fine non ce la facevi più. Sì, è vero. Ti ha aiutato un po' tua sorella? Ho aiutato mia sorella Giovanna. Tua sorella Giovanna, ma alla fine eri stanchissima. Sì. Senti, io ho una sorpresa per te. Sì. Adesso parleranno di te e delle persone che ti conoscono. Vogliamo vedere insieme? Va bene. Va bene? Dove siamo? Guardiamo un po'. Lì? Sì, voi guardate lì. Guardiamo un po' Letizia. Letizia per me è uno dei punti più misteriosi della mia vita perché la sua presenza è sempre stata per me in modo molto provocante è l'intuizione che niente può essere perso a partire da quello che nessuno si aspettava, cioè la sua nascita e la sua presenza in mezzo a noi. Lei mi insegna la semplicità e la sincerità. È proprio bello stare assieme a lei perché è super semplice e tante volte noi ci facciamo problemi casuali e poi la guardi negli occhi che ti fa un sorriso così e ti ricorda un po' le giuste probabilità. Nella sua semplicità mi ha insegnato che nella vita ci vogliono delle ragioni adeguate per fare qualsiasi cosa e che bisogna basare la propria vita su delle certezze perché non so se avete mai avuto a che fare con Letizia ma se non gli dai una ragione adeguata per fare qualsiasi cosa non la smuove. E' una persona molto viva e io ho bisogno di persone così nella mia vita che mi facciano stare con i piedi per terra anche per la sua semplicità e mi spalanca il cuore tutte le volte che sto con lei. Stando con lei si impara a essere semplice. La Letizia è un'ondata di freschezza sulle cose. Cara Letizia, la tua faccia anche se adesso siamo così lontani è sempre per me una grande certezza. Grazie della tua amicizia, ti voglio bene. Leti rimani sempre così come sei mi raccomando. Letizia resta sempre così perché mi ha insegnato tantissimo e ho bisogno di guardare a te. Ciao Leti, ti voglio tanto bene, sei il top. Anche se ci vediamo molto di bene ti voglio un sacco di bene uguale. Non le ho mai detto sinceramente grazie. Grazie per com'è. E poi grazie Esther e grazie Mauri perché la Leti non sarebbe così. Ciao! Ciao! Senti! Ci siamo un po' commossi qui. Bellissimo, molto. Ti è piaciuto Letizia? Molto. Sono i tuoi amici? Sì, sono amici miei, sono con tutti i compagni di Sino. Dell'asilo? Tutti i compagni dell'asilo. Hai visto quante cose belle hanno detto? Ti hanno detto grazie perché le ha insegnato loro tantissime cose. Che cosa insegna Letizia? Letizia è un dono immenso, ma in termini di felicità mia personale, di equilibrio mio personale, di pace mia. E posso fare un esempio? Sì, tutti quelli che vuoi. Tempo fa abbiamo avuto un incontro dove c'erano dei genitori che parlavamo con le istituzioni, eccetera. E dovevamo proporre qualcosa per le famiglie Down, eccetera. E un genitore ha parlato attaccando un po' l'istituzione. Ma io penso che se uno vive così è perché all'inizio vede un torto subito. E invece ho avuto la grazia attraverso tutti gli amici che le ho detto, le persone che le ho detto, il movimento a cui appartengo. Che è la Chiesa, che è Comunione e Liberazione, che è Papa Francesco, che è Don Caron. E sono tutti questi che mi aiutano invece a dire che questo è un dono. All'inizio, all'origine di questa storia c'è un atto d'amore. E' un atto d'amore che io vedo negli occhi di mio marito, negli occhi degli amici, negli occhi di questi nomi che le ho fatto. Stiamo vedendo una foto con Papa Francesco. Ce lo raccontate com'è stato incontrarlo e consegnargli anche le foto di Letizia. E' stato un momento, guarda che faccia che ho, terribile perché non sono riuscita a dire una parola. E la cosa più stupefacente è che il Papa ha aspettato che mi calmassi, aveva la mia mano fra le sue e ha aspettato che mi calmassi perché non riuscivo proprio a parlare e volevo. E poi ha visto che non era possibile e quindi ha aspettato quei 4-5 secondi che penso siano un'eternità per lui. Mi ha fatto il segno di croce sulla testa e ho potuto dirle, le do queste foto, le ha fatte lei. Ho detto questo e basta. Ma insomma è stato più di quello che mi aspettavo. Letizia sei contenta che le tue foto ce l'ha anche il Papa? Sì, molto. Va bene. Allora io vi devo ringraziare davvero per essere state qui, per averci raccontato di questo dono che voi ci avete portato qui con un grande sorriso e con quella serenità di cui parlavi che si racconta e si vede benissimo. Bene. E quindi grazie tante per essere state qui con noi, tornateci a trovare. Letizia se fai altre foto spediscicele così le guardiamo anche noi. D'accordo? Ok. Va bene. Va bene. Grazie mille.